Non resta un caso isolato, quello del rogo avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio, ai danni di due veicoli parcheggiati presso un'abitazione privata paese. Sono ben due i nuovi episodi di incendi segnalati nel giro di qualche ora nella notte di ieri. Altri tre veicoli nel mirino in via Circo a Vedelago. L'allarme è arrivato intorno alle 22 con le fiamme già visibili da tutto il vicinato. Le auto e il motociclo erano parcheggiati sotto una tettoia direttamente accanto ad un'abitazione. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato fino a luna di notte ben quattro squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco e Asolo. L'intera aria e ciò che resta dei mezzi sono stati messi sotto sequestro e l'incendio è stato certificato come doloso. Ancora fiamme poco dopo la mezzanotte in via Castagnola a Fregona. Questa volta si tratta di un vecchio fabbricato, una volta utilizzato come stalla. L'incendio che ha avvolto la struttura è stato spento dai vigili del fuoco arrivati da Vittorio Veneto e Conegliano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma le cause restano da valutare.